bene ragazzi e benvenuti in questo nuovo video a tavola con davide spero che state tutti bene oggi ho portato un nuovo panino chiamato new york e ora vi faccio una bella panoramica del panino che poi vi dico come è composto tra poco ecco qui ragazzi come è composto il paninone con anello di cipolla qui abbiamo l'uovo l'uovo cheddar bacon pomodoro insalata e doppia burger un panino new york questa ragazza di cipolla eccoci qui ragazzi con il panino ve l'ho fatto vedere prima più da vicino e ora andremo con l'assaggio con questo panino new york l'altra volta era arizona triplo questo ora è il doppio e ci ho messo un bel anello di cipolla doppia ambute l'uovo cedra pomodoro proprio guardate che bestia e la salsa bbq a noi ci piace il cibo food porn ecco l'uovo su di vicino a me c'è mio fratello anche l'uovo si è sparato questo bel panino per mangiarlo questo è bello grosso beh avete visto l'altro panino che avevo preso con il triplo l'uovo molto buono questo panino la prossima volta volevo prendere il panino calabria che era composto con parmigiana anduglia e scamorza però ho voluto provare quest'altro oggi è la prossima proverò con l'altro una delizia mezzo si è fatto in america con tutti quei panini che c'hanno loro fanno tutti i panini proprio proprio porno proprio quelli che bontà che buont puria siamo tornati a roma sono stato fuori mi volevo prendere una bella birreta però ci ho pensato dopo perché avevo preso già la vo d'hola Si stiamo avvicinando il tempo per partire, speriamo tutto bene negli aeroporti per il coronavirus, speriamo bene. Wow, si stava aprendo il panino. Devo preparare la valigia, ci siamo quasi. Pronto a testare nuovi cibi in vari paesi della Spagna, varie città, spero di portarvi tante belle cose. Il pozzo supporto per me è molto fondamentale. Saluto una persona in grande, sempre presente, due persone. Una persona giuventina 1997, sempre presente nei commenti. E Hector Ramones, sempre molto presente, mi fa molto piacere. Vi ringrazio per essere sempre presenti nel mio canale. Questo penso che io mi fa molto piacere per le persone che sono sempre presenti. A me è un grande piacere che ci siete e anche un vostro commento, un vostro parere sui video e tutto quanto. Io sono davvero felice. Non si capisco tanto. Per voi, sembra una gallata, però per me è fondamentale. Se un video vi è piaciuto oppure no, crea un legame, rapporto anche con le persone. Anche se è solo tramite una videocamera, magari non ci conosciamo, però è sempre un piacere. Quindi, grazie di cuore a tutte e due. E anche a tutte le persone che hanno lasciato il loro commento, in vari video. Non sono costanti, però ringrazio sempre tutte le persone. No, Maria. Buono, voglio. È veramente buono. Grazie a tutti. C'era un posto, stavo vedendo su Facebook, un locale dove facevano dei panini atomici, veramente buoni. Ho provato a chiamare, ma stava al centro di Roma, e qui giustamente il codiere non passa qui. Troppo lontano. L'ho musicato tanto perché c'era un pagnolo in particolare che mi piaceva molto. E' un pagnolo in particolare che mi piaceva molto, però purtroppo stava distante. Spero che la videocamera si veda bene. Perché, non so se si è bloccata. Perché ultimamente mi ha dato dei problemi. Però penso che stava registrando. Quindi ho rusicato tanto perché non sono riuscito a trovarlo, questo panino. Devo andare sul posto. Noi ho fatto tanti panini, ho provato vari panini. E' sempre molto soddisfatto della scelta. Adesso partirò, ovviamente cercherò di portare almeno un video di questa settimana. Perché mi metterò a cercare la casa, perché ho venduto, per chi mi segue lo sa, ho venduto la mia casa, quindi vado a Sevilla per cercare una bella casa, vediamo un po'. Quindi sarò molto impegnato, girò, però farò anche video. Quindi rimanete sempre connessi, mi raccomando, sostenetemi. Affronterò un cambiamento, lo spostamento del posto, quindi mi intorno a abituare a tutto quanto perché ovviamente cambiano tante cose. Anche se sono stato da vivere a Barcellona, un po' al ritmo di vita, però diciamo la vita è molto più, non è completamente come Roma. Questo vino me lo sto abusando assolutamente perché è molto buono. Così anche per chi non è stato mai a Sevilla vi faccio vedere i posti. quindi andate sulla playlist Travel, troverete i video di Sivilla, di Palma di Mallorca e di altri posti che ho fatto vedere. sulla città di Roma, l'ho fatto vedere abbastanza tanti posti, ho fatto vedere e piano piano sto a metterlo, ma se al forse dove andrò a visitare, vi faccio vedere un po' tutto quanto. Quindi se vi fa piacere andate nella playlist e troverete tutto quanto. non vado a dire. e con questo boccone termineremo questo magnifico panino. ragazzi, adesso termino il video, io vi ringrazio per la vostra visita, spero che questo video vi sia piaciuto, io me lo sono gustato, come sempre alla grande. e niente, ci vediamo direttamente nel prossimo video ragazzi, bella!